Buongiorno amici ma soprattutto amiche di My Own Workout. Mattina presto sono già in sala macchine seduto sul mio remergometro per scaricare. Oggi la sessione sarà dedicata anzi tutta la giornata per quanto riguarda il mio allenamento personale quindi My Own Workout sarà dedicata allo scarico. 40 minuti di remergometro di prima mattina e poi ancora un'oretta di dolce ondulato di corsa a ritmi veramente blandi quasi jogging o sotto jogging ma in questo nuovo vlog che sarà puramente un vlog personale niente approfondimenti niente di tecnico mi vedete con questa divisa che sembra una divisa da warrior guerrieri della notte quartiere g3 perché ieri a Novi Ligure c'è stata la corsa del quartiere g3 e vi parlerò un po' di questa gara da sei chilometri organizzata dalla mia squadra che è l'atletica novese c'è stato un boom di adesioni quest'anno penso come non mai prima veramente tantissimi partecipanti per me gara che cadeva di martedì quindi perfetta perché martedì e giovedì sono i miei giorni qualitativi quindi invece di andare a fare un progressivo ho corso la gara e sono soddisfatto bene sei chilometri questa gara è un diciamo che la possiamo considerare un mini collinare perché sui sei chilometri si sviluppa in diversi mangia e bevi soprattutto concentrati dal quarto chilometro e mezzo in avanti belli ben corribili duri il giusto in un mix di tipologia di fondo che va dall'asfalto nella parte iniziale e finale alcuni passaggi in erba poi del facile sterrato e molto bene ho chiuso la mia prova in 21 minuti e 33 secondi ottava posizione assoluta sono venuto su in buona progressione nonostante mi sia mancato il un po di di calcio finale nonostante l'amico Alessio che saluto mi abbia diciamo invitato alla volata ma sono arrivato presso il traguardo che non è che ne avessi più moltissimo e abbiamo mantenuto le posizioni praticamente invariate come erano lungo il percorso va bene così ottavo assoluto dicevo primo di categoria con il tempo di 21 e 33 benissimo la progressione c'è stata sono assolutamente contento in questa settimana con ieri è la seconda gara che ho fatto domenica masone una gara di 9 chilometri due ieri sei chilometri però adesso c'è la necessità di andare a tamponare un pochettino il lavoro concentrato di gare in questi degli ultimi giorni con un po di ritorno alle fondamenta aerobiche già da oggi e il fulcro centrale della settimana sarà dedicato a questo sempre in salsa multisport perché ho le mie non ho le calze non potete vedere ma ho le mie belle bugne qua retro calcaneari che quando mi danno l'allarme so che è un segnale chiaro che devo un po alleggerire sulle articolazioni infatti sono già su questo splendido attrezzo e adesso comincio in conclusione bene bene procedo la settimana è sempre equilibrata come vi insegno e ho sempre argomento con sempre in tutti i miei video equilibrio tra anaerobico e aerobico e lo dico i miei allievi e lo dico anche ai simpatizzanti e alle simpatizzanti soprattutto se volete gareggiare tanto cercate di non tirarvi troppo il collo il giusto quanto basta per riuscire ad essere freschi per affrontare la sessione del giorno dopo del giorno seguente va bene fatto questo aggiornamento per adesso vi saluto prossimamente se ritornerà su qualche approfondimento tecnico scrivetemi suggerimenti se volete che parli di qualche argomento in particolare come sempre vi invito a mettere un bel like al canale se il video vi è piaciuto passate a trovarmi anche ai link in descrizione buona giornata ragazzi e come sempre